L'autostrada 14, lo snodo ferroviario, il porto turistico con partenze periodiche per la Grecia ed i principali scali dell'ex Jugoslavia e l'aeroporto fanno di Ancuna un centro facilmente raggiungibile. Le città e i paesi della sua provincia vantano un prestigioso patrimonio storico e culturale. Iesi, città natale di Federico II, Offagna e la sua rocca, Corinaldo con le imponenti mura del IX secolo, Arcevia e la necropoli dei Galli Senoni a Montefortino, Osimo, ridente cittadina, orgogliosa delle sue origini romane, Sassoferrato, che custodisce interessanti reperti storici e fu patria di Niccolò Perotti e di Giovanni Battista Salvi, Senigallia, che oltre ad una spiaggia vivace e solare, offre passeggiate tra evidenti resti di antiche civiltà, la riviera del Conero, le grotte di Frassassi, le specialità della tavola come i vinci sgrassi o i fagioli con le cotiche, i salumi del Fabrianese, il verdicchio dei castelli di Iesi e il rosso Conero.